Sanità sì all'abolizione dell'obbligo di certificato medico per la riammissione a scuola dopo cinque giorni. La legge è stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Edilizia rivedere lo stop alla cessione dei crediti d'imposta sugli incentivi fiscali. Approvate dall'aula due emozioni, una presentata dal Partito Democratico e l'altra dal Movimento 5 Stelle. Mostre le infinite suggestioni pittoriche di Paolo De Lisa si è svolta fino al 18 febbraio nello spazio espositivo Carlo Azzeglio Ciampi a Palazzo del Pegaso la mostra dell'artista Pisano. Approvata all'unanimità dal Consiglio regionale della Toscana la legge che abolisce l'obbligo di certificazione per la riammissione a scuola dopo cinque giorni di assenza. Ad illustrarla il Presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni del PD che ha spiegato come essa si inserisca tra gli obiettivi della semplificazione delle procedure amministrative e come la richiesta di tale certificazione non sia più supportata da motivazioni scientifiche. Sentiamo le sue parole. Sì, assolutamente. Su questo ci sono due passaggi importanti. Uno di un gruppo interministeriale fatto addirittura agli inizi degli anni 2000 e poi c'è stato un passaggio nell'organismo toscano del Governo clinico nel 2020 che ha richiarito come la contagiosità di una malattia la scienza ormai ha evidenziato che c'è nella fase di incubazione e all'inizio dei sintomi non alla fine della sintomatologia. E quindi il certificato dopo cinque giorni di assenza è un certificato che non ha nessuna valenza da un punto di vista della riduzione dei contagi. Si dice anche che è molto più efficace abituare i bambini a lavarsi le mani, a rieggiare le classi. Questi sono più metodi che davvero aiutano alla riduzione delle diffusioni delle malattie. Quindi non c'è nessun motivo scientifico per avere la certificazione dei cinque giorni dopo cinque giorni di assenza. Quindi per un principio di semplificazione, e dalle leggi Bassanini è un principio fondamentale del nostro ordinamento, le regioni hanno la potestà legislativa di eliminare quelle certificazioni mediche che non hanno più una valenza scientifica. E con questo principio noi andiamo a inserire un articolo nella norma toscana che stabilisce che dall'entrata in vigore della legge che oggi abbiamo approvato non ci sarà più bisogno del certificato per rientro a scuola. Ci tengo a precisare che prima di approvarlo ovviamente sono stati sentiti i rappresentanti delle scuole, c'è il parere della Commissione Quinta che è stato positivo, il parere della Comunità Scientifica e dei pediatri toscani che sono assolutamente d'accordo in questo senso. Ovviamente, e l'ultima cosa, sono fatte salve le disposizioni che si devono attuare nell'ipotesi nella quale, come abbiamo visto per il Covid, purtroppo si diffondesse una malattia infettiva grave e pericolosa. In quel caso la disciplina vigente permette di rientrodurre certificazioni, di introdurre misure limitative della diffusione e la legge che noi abbiamo approvato non ostacolerebbe minimamente tali provvedimenti. E adesso sentiamo il commento di Stefano Scaramelli di Italia Viva. Sì, con soddisfazione, una storia che viene da lontano, siamo all'inizio del 2020, ero all'epoca presidente della Commissione Sanità, l'organismo toscano del governo clinico diede un'indicazione di andare verso un processo di semplificazione, poi sappiamo c'è stato il Covid e quello che c'è stato, oggi finalmente la regione toscana si adegua a una normativa di semplificazione, i bambini potranno tornare a scuola anche dopo cinque giorni di assenza, senza certificati medici e senza un aggravamento di carattere burocratico ma essenzialmente amministrativo che molte volte compete in questi casi ai pediatri, quindi c'è un alleggerimento del lavoro amministrativo, delle funzioni mediche che invece devono concentrare essenzialmente la propria attività sull'aspetto di cura e di vista ovviamente dei bambini. In cui riguarda una fattispecie particolare, ovviamente non riguarda tutte le questioni riferite a infezioni o malattie gravi che riguardano i livelli nazionali, pandemie, come nei casi in cui la normativa nazionale sovraintende ovviamente alle normative di carattere regionale. Sentiamo le parole di Andrea Ulmi della Lega. Credo che sia in linea con il cambio della medicina, perché bene o male questa era una burocrazia del tutto inutile, tanto è vero che non c'è stato un passaggio di tipo politico se non quello dell'unanimità. Per conseguenza io credo che questo possa essere il primo di tanti atti che sburocratizzino un pochino l'attività dei medici, specialmente dei medici di famiglia, che sono oberati in questo momento di carenza di medicina generale da tanti orpelli di tipo amministrativo che bene o male dovrebbero esserne assolti. Per esempio io credo che un medico non debba fare un ambulatorio fatta di ripetizione di ricette oppure di scambio di quello che dicono gli specialisti, ma debba avere un suo proprio amor, un amor proprio della professione e quindi se manda allo specialista, allo specialista poi competa quello di continuare il percorso. In fin dei conti un medico di medicina generale, ora che c'è anche la specializzazione in medicina generale, credo che sia un medico a tutto tondo e non soltanto un passacarte. Quindi bene che l'ospedale faccia l'ospedale per acuti, bene che il medico faccia il collettore delle problematiche e che quindi tutta la parte geriatrica, la parte di cronici, venga indirizzata a strutture deputate a quello. E quindi ecco che questo piccolo atto che bene o male tutti noi in famiglia conosciamo come un qualche cosa anche quando andavamo in vacanza in settimana bianca, fatti fare il certificato dal dottore. E poi in realtà è veramente una cosa banale perché io mi ricordo e concludo quando ho dato pediatria nel libro c'era scritto dai 10 ai 12 giorni di incubazione e il professore mi faceva, sì è vero però poi lui che fa? E beh dopo c'è la parte esantematica, io parlo del morbillo. Cioè il morbillo si vedevano tutte le postulette, a quel punto passate le postulette il bimbo non era più assolutamente contagioso, quindi è inutile che lo scrivesse il medico. Infine il commento di Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. È un provvedimento che semplifica la vita sicuramente ai pediatri e ai medici, ma soprattutto alle famiglie che ancora oggi si ritrovavano a fare conti con un documento che come è stato detto anche all'interno della Commissione è obsoleto, infatti è stato superato da 11 regioni. Quindi d'ora in poi i ragazzi potranno rientrare nelle scuole, naturalmente in condizioni di salute ottimali, e come saranno poi i genitori stessi e i medici a consigliare, ma senza bisogno di un foglietto, per cui alcune volte era necessario doversi recare dal medico per poter prendere proprio nei giorni in cui magari il ragazzo era ancora a casa, specialmente con i bambini più piccoli, e per le famiglie anche monogenitoriali o con poco supporto, era una difficoltà in più. Quindi aiutiamo le famiglie, alleggeriamo la burocrazia per i medici, e secondo noi facciamo un servizio a tutta la collettività. Il tema dei crediti d'imposta sugli incentivi fiscali in materia di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica e super bonus 110% è stato al centro del dibattito del Consiglio regionale. Due le mozioni discusse e approvate in aula. Nella prima, presentata dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Silvia Noferi, si chiede alla Giunta regionale di attivarsi con il governo per rimodulare la scelta dello stop della cessione dei crediti d'imposta relativi agli incentivi fiscali del bonus 110%. Sentiamola. Speriamo che sia un blocco di questa decisione presa dal governo il 16 febbraio, che in un modo completamente inatteso ha cancellato questo vantaggio fiscale di cui stavano soffruendo imprese e famiglie. Io ho sottolineato in Consiglio regionale che questa era una misura presa dal governo di Giuseppe Conte alla fine della pandemia, in un periodo in cui il Paese era preoccupato e spaventato di fronte anche alle incertezze del futuro. È stato un modo per sbloccare l'economia, i vantaggi e i numeri, lo dicono chiaramente, ci sono stati, a differenza di condoni che invece si vede approvare senza nessuna ragione dal governo attuale. Quindi veramente questo comportamento di decidere dalla sera alla mattina di cancellare un provvedimento che ha portato un incremento notevole in posti di lavoro e in PIL ci è sembrata una cosa completamente fuori luogo. E poi mi domando anche come il ministro Giorgetti e tutto il centro-destra si accorgano adesso della insostenibilità di questa misura quando erano anche loro nel governo Draghi che ha continuato ad alimentare questo provvedimento del super bonus. Quindi noi abbiamo chiesto come Momento 5 Stelle al governo di ripensare all'annullamento di questa misura e anche magari fare una concertazione con le parti interessate ma anche di prevedere come è stato ventilato da alcuni rappresentanti del settore economico interessato quindi dell'edilizia di permettere alle imprese alle piccole imprese, ai condomini alle famiglie di non far parte di questo provvedimento quando le loro dichiarazioni di erediti non hanno la capienza necessaria. Nella mozione del Partito Democratico illustrata dal consigliere Francesco Gazzetti si chiede alla Giunta di attivarsi con il governo e in conferenza Stato-Regioni per fare in modo che venga rivista quanto prima la decisione di bloccare in modo permanente e generalizzato la cessione dei crediti d'imposta relativi agli incentivi fiscali. Sentiamolo. Noi ci siamo messi in ascolto dei territori, delle imprese ma come voi sapete molto bene anche di tantissime famiglie che dopo i provvedimenti assunti al governo sono rimaste assolutamente sconcertate e c'è una crescente paura e un timore che questi provvedimenti possano davvero provocare guai ancora più grossi e rilevanti. Da qui la decisione di presentare una mozione con la quale noi chiediamo alla Giunta di interloquire con il governo sia perché sia valutata la possibilità anche di tornare indietro rispetto a alcuni provvedimenti e poi si discuta nella conferenza Stato-Regioni o nella conferenza unificata affinché si possa valutare anche la possibilità da parte delle Regioni e degli enti locali di procedere anche per quella strada che era stata individuata da altre Regioni e da altri enti locali e che il provvedimento del governo con una decisione che ha lasciato sorpresi davvero tutti perché si parla molto di autonomia ma questo provvedimento invece ha bloccato, ha zerato anche l'attività e soprattutto l'autonoma deliberazione di questi enti e questa mozione serve per anche portare questo tema all'interno del Consiglio regionale e c'è stata una bella discussione e siamo contenti dell'approvazione Le Regioni in questo momento con la presa di posizione del governo non possono fare nulla è chiaro che c'è la necessità di andare ad aprire un'interlocuzione proprio con il governo affinché possano essere individuati nei primi provvedimenti utili da parte del governo Meloni provvedimenti che mettano anche in garanzia le regioni o gli enti locali affinché ci possa essere una strada percorribile è una cosa che viene richiesta da tante imprese ma soprattutto da tante famiglie e quindi è un atto che vuole sostanzialmente invitare il governo a pensarci e soprattutto aprire anche una concertazione una cosa che viene detto da tutti sicuramente in questa fase è assolutamente mancata Duro l'attacco del consigliere regionale dei Fratelli d'Italia Alessandro Capecchi con il sistema del super bonus ad oggi ci sono 77 miliardi di euro che non hanno copertura fiscale e sono già state accertate truffe per 9 miliardi per questo le banche non comprano più i crediti sentiamo le sue parole ma perché si continua a far finta di non capire che l'operazione del super bonus ha generato circa 105 miliardi di crediti fiscali di cui 77 non hanno ad oggi copertura da parte dello Stato perché il meccanismo di cessione infinita di questi crediti ha creato uno scompenso rischia di creare uno scompenso nei conti pubblici che non può essere per esempio sanato dall'acquisto degli enti locali e delle regioni come era stato nelle settimane scorse se paventato perché questo rischierebbe di pesare sul debito pubblico italiano non essendo cioè una forma di finanziamento immediatamente liquidabile gli organismi di controllo europeo avrebbero potuto considerare l'acquisto da parte delle regioni degli enti locali come un aumento dello stock di debito complessivo del sistema pubblico italiano con immediate ricadute in termini negativi dal punto di vista della quotazione del paese e naturalmente dell'appetibilità dei nostri titoli pubblici inoltre il governo è internato su due altri aspetti per noi fondamentali il primo togliendo la responsabilità penale solidale che bloccava le banche nel riacquistare questi crediti laddove ci fosse stato qualche problema cioè attraverso un meccanismo immediato e automatico di responsabilità penale che invece il governo ha tolto l'altro con la possibilità di spalmare questi crediti in 5-10 anni perché non esiste lo spazio fisico e finanziario per restituire immediatamente al circuito finanziario stesso questi 77 miliardi di questa situazione molto grave qualcuno dovrà prima o poi assumersi le responsabilità nell'immediato l'ha dovuto fare questo governo ma già il governo Draghi e anche lo stesso governo Conte erano intervenuti cercando di limitare le truffe che ad oggi ammontano a circa 10 miliardi di accertato è una situazione potenzialmente esplosiva naturalmente coloro che avevano fatto i 110 fino ad oggi e che hanno i titoli edilizzi rilasciati fino al 16 di febbraio avranno la possibilità di usufruire del super bonus mentre per mettere diciamo anche le famiglie in condizione di fare valutazioni più appropriate sui costi è stata lasciata la possibilità di fare l'operazione fino al 90% perché è chiaro che il meccanismo del 110 spingeva ad alzare il valore delle spese anche per le consulenze tecniche perché tanto pagava Pantalone Pantalone oggi non ha i soldi per pagare e questo extra profitto che tanti stavano facendo va bloccato nell'interesse del Paese grande successo per la mostra di Paolo Delisa bionirico nello spazio espositivo Carlo Azzeglio Ciampi che ha presentato le opere dell'ultimo periodo realizzate tra il 2018 e il 2021 dell'artista Pisano una pittura di ricerca che nel segno e nella costruzione spaziale trova una dimensione onirica e ancestrale un pittore che racconta in maniera moderna il proprio tempo e da origine a un orizzonte visuale di rara complessità tra il numero si richiami nella sua pittura la tradizione medio orientale e l'astrattismo informale dell'action painting per delineare un universo creativo articolato che trova nella moltiplicazione di suggestioni diverse una rara intensità poetica la mostra è proseguita fino allo scorso 18 febbraio sentiamo Antonio Mazzeo presidente del Consiglio regionale una mostra bella una mostra che arriva dritta al cuore io sono felice di poter ospitare Paolo De Isa e De Lisa e la sua arte qui in Palazzo del Pegaso in Consiglio regionale noi ci siamo detti di voler dare voce a chi ha meno voce far conoscere i talenti della Toscana e ne sono tanti noi viviamo in un luogo Firenze la Toscana dove l'arte la bellezza sono all'ordine del giorno penso che con questa mostra invito le cittadine e i cittadini toscani a venirla a visitare si riesce a guardare anche al futuro è una mostra che prova a raccontare cosa saremo cosa vorremmo essere con forme difficili da comprendere all'inizio ma che sanno arrivare forme che funzionano bene un'arte moderna ma con grande capacità di saper tenere insieme le tecniche più importanti complimenti a Paolo Delisa e mi auguro possa essere davvero una mostra molto visitata la mostra bionirico è nata da una collaborazione molto intensa tra me e l'artista spiega la curatrice Caterina Ceccioni è un piacere molto grande perché effettivamente è bello essere nella propria città con un patriota entrambi i toscani quindi è bello che si porti avanti questa tradizione artistica e espositiva proprio tra l'altro in centro a Firenze in una sala di esposizione anche dedicata a Carlo Azzeglio Ciampi quindi sono contenta e sono molto contenta del lavoro che abbiamo fatto insieme io e Paolo è stata una collaborazione molto interessante e molto proficua suppongo spero e quindi questo è quanto spero vi piazza la mostra è un onore esporre le mie opere in uno spazio così prestigioso ha detto l'artista Paolo Delisa è un emozione grandissima è un onore essere qui a Firenze a aprire questa mostra e poter esporre le mie opere e potermi confrontare con persone di cultura anche di altri artisti è molto importante sì diciamo che è una mossa un po' complessa perché rappresenta quattro anni di esperienze varie quindi ci sono cose anche molto etnogenee ma il filo conduttore è il cambiamento la metamorfosi il ritmo si può dire la trasformazione della materia continua che avviene nel tempo che avviene è un'esercizio che avviene è un'esercizio è un'esercizio